Eduard von Keiserling fu uno scrittore importante anche se di nicchia, molto amato da importanti autori come Thomas Mann che era più o meno suo coetaneo e anche altri. Von Keiserling è già stato traduto in italiano con alcuni suoi romanzi, adesso l'editore Lorma ne ha tradotto un altro che si intitola La sera sulle case. Von Keiserling era un barone baltico, lui veniva dalla Curlandia che sembra una regione finta da operette invece c'è davvero, è in Lettonia e lui faceva parte dell'aristocrazia baltica von Keiserling e quell'aristocrazia viene da lui raccontata nei suoi romanzi. Qui La sera sulle case si svolge appunto in uno vago paesaggio baltico, immenso prati, soprattutto boschi, foreste, pianure, laghi e disseminati i castelli, le dimore, gentilizie, ricche, sontuose di piccoli baroni di un'aristocrazia locale che lui racconta. Si tratta di trame private, sentimentali, sottili trame amorose, qualcuno consumata un po' di nascosto nei boschi di notte, d'inverno, con le slitte sotto la luna o nelle estati piene di griglie, di buio, di stelle, ma poi certe trame sentimentali sono solo abbozzate. C'è l'attaccamento di queste famiglie ricche, un po' isolate, che si parlano, si incrociano, questi castelli o timore, gentilizie lontani l'uno dall'altro, si corre con i cavalli, con le carrozze, con le slitte d'inverno e queste persone sono legate a dei privilegi che ormai sono soltanto formali. Foen Keiserling morirà con la morte di un'epoca alla fine della prima guerra mondiale del 1918, lui racconta le cose prima, quindi privilegi un po' formali, valore ormai in dissolvenza, un attaccamento un po' patetico a questo mondo antico che sta per dissolversi. Lui non è molto tenero l'autore con questa gente, capisce che è ormai dentro un viale del tramonto storico e di classe, nello stesso tempo ha come una tenerezza, uno che ne ha fatto parte insomma, una tenerezza di sguardo verso queste piccole vite. Gli anziani sono attaccati voracemente ai loro antichi valori che sentono sgretolarsi, i giovani vorrebbero volare via da questi valori, vorrebbero più libertà ma non lo sanno fare, sono a mezza via, c'è qualcosa di gattopardesco in questa narrazione. La forza di questo romanzo è l'atmosfera, il paesaggio, i boschi, le foreste, le grandi gelate invernali, le slitte sulla neve, il tintinio delle slitte da una villa all'altra, le seduzioni, i piccoli tormenti, la grande estate, le grandi notte piene di vastità sotto un cielo immenso. Siamo su su al nord dell'Europa, è un mondo incantato, è un mondo che è realissimo ma sembra quasi fiabesco. Von Kaiserling l'ha conosciuto, aveva tutto il diritto di cantarne come dire la ballata quasi da Dio.